Condividi 27 novembre 2017 tra le proteste degli ambientalisti della coalizione europea Stop Gliposate, che si erano incontrati davanti al quartier generale della Commissione europea Bruxelles, con indosso maschere del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del commissario UE della Salute. Il lituano Vitenis Andriukaitis vi fanno capo tra gli altri Avaz e Greenpeace. È stata approvata l'autorizzazione all'uso del glifosato proposta dalla Commissione europea. Altri cinque anni, dunque, prima della messa al bando a partire dal 2022, determinante il parere positivo della Germania, che ha di fatto spostato l'equilibrio dei paesi UE riuniti in comitato d'appello. La maggioranza qualificata si espressa a favore con 18 paesi, nove contrari Italia, Francia, Belgio, Grecia, Ungheria, Cipro, Malta, Lussemburgo e Lettonia. Uno astenuto Portogallo, inaspettatamente, la Germania, che si era sempre astenuta negli scorsi tentativi nel comitato permanente UE su piante, Cibi e Mangimi Comitato PAF facendo mancare la maggioranza qualificata pro o contro la proposta della Commissione, questa volta si è espressa a favore. Il voto dimostra che quando tutti vogliamo, siamo in grado di condividere e accettare la responsabilità collettiva nel processo decisionale, ha detto il commissario UE alla salute Andrew Caitis. Un passaggio obbligato spiegano i commissari europei dato che non ci sono in commercio altri erbicidi potenzialmente non dannosi per l'uomo. Tesi bocciata dalla Francia, che si è imposta con il suo no alla proroga Voteremo contro il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per cinque anni proposta dalla Commissione europea Vogliamo assumerci le nostre responsabilità perché il glifosato è un prodotto potenzialmente a rischio per la salute dei francesi e per l'ambiente e la biodiversità Aveva dichiarato alla vigilia del voto la segretaria di Stato presso il Ministero dell'Ambiente, Brune Puarsson Promessa mantenuta L'uso del glifosato formula molecolare C3H8NO5P-NDR, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggiore produttore È considerato un erbicida totale, vietato in Italia sul grano in preraccolta a differenza di quanto avviene per quello straniero proveniente da USA e Canada Dove nella stessa fase produttiva viene fatto un uso intensivo per seccare e garantire artificialmente un livello proteico elevato Grazie a tutti Grazie a tutti